ciao a tutti amici di film e more sono davide belardo di the room a view e oggi sono ospite del canale di colpiccio per parlarvi e presentarvi la steelbook di hunger games la ballata dell'usignolo del serpente nuovo capitolo anzi prequel della saga di hunger games che arriva in un video grazie alla distribuzione di colpiccio in questa edizione da collezione steelbook con ovviamente all'interno il film sia in 4k che in blu ray da notare che all'interno ci sono la bellezza di oltre due ore e mezza di contenuti speciali quindi non male per questo prequel e per questa bella edizione una volta eliminato il cartoncino possiamo notare che abbiamo uno dei protagonisti principali nella parte frontale e ovviamente nella parte posteriore abbiamo l'altra protagonista di questo nuovo capitolo della saga devo dire che è una bella steelbook elegante non ci sono elementi rilievo non c'è niente semplice ma nello stesso tempo secondo me di grande impatto mi piace insomma questo stile un po così fumettoso dei protagonisti all'interno avete i due dischi ecco qui si poteva fare qualcosina di più per quanto riguarda l'artwork farli magari un po diversi però non ci possiamo lamentare perché c'è un gran bel disco blu ray e poi ovviamente c'è anche il preferibile e ottimo disco in 4k ovviamente audio italiano 5.1 dts hd master audio sia per il 4k che per il blu ray e come vi ho già detto ci sono la bellezza di due ore anzi oltre due ore e mezzo di contenuti speciali e poi all'interno c'è questa immagine interna insomma quest'artwork interno nulla di trascendentale però dobbiamo dire che comunque è una bella uscita in steelbook io non me lo aspettavo di avere la possibilità di recuperare questa steelbook per questo capitolo invece grazie a lei col pixel abbiamo anche questa bella steelbook la steelbook la trovate un po ovunque io vi anzi io sicuramente il team di film and more vi lascerà il link in descrizione al canale allo store di film and more che vi ricordo è lo store ufficiale dell'agol picture dove troverete anche molte ma molte esclusive come quella che vi presenteremo qui sul canale nei prossimi giorni che dire ragazzi come sempre è un piacere stare in vostra compagnia se vi è piaciuto questo video mettete un bel like e se vi fa piacere iscrivervi al canale perché su questo canale troverete oltre agli unboxing e alle pillole di adam e a tanti altri contenuti soprattutto tantissimi film gratuiti e completi quindi iscrivetevi perché ogni settimana vengono caricati dei bellissimi film della library di eagle picture noi ci vediamo alla prossima e ciao a tutti